Sono in leggero calo le esportazioni per la provincia di Barletta, Andrea Trani, lo dice l'Istat che ha reso noti i dati relativi all'export delle regioni e delle province italiane. Bene il settore manifatturiero e il sistema moda rappresenta il 64% dell'export provinciale. I dettagli nella scheda. Dopo un settegno in crescita il settore delle esportazioni, seppur seguendo un trend positivo, registra una leggera flessione per la provincia di Barletta, Andrea Trani. Lo ha certificato l'Istituto Nazionale di Statistica che ha diffuso i dati relativi all'export delle regioni e delle province italiane. Il calo è in realtà il riflesso non solo dell'andamento mondiale dell'economia, che continua a marcare con il segno meno molti indicatori di crescita, ma anche della difficoltà delle imprese del nord barese di poter rispondere alla domanda di prodotti ad alto contenuto tecnologico. La BAT è debole in tal senso e deve rafforzare anche l'apertura verso più mercati internazionali. In generale, secondo l'Istat, la crescita del prodotto interno lordo mondiale quest'anno sarà del più 3,5%, contro il più 3,7% del 2018 e il più 3,8% del 2017. Una diminuzione che crea un clima di sostanziale incertezza economica, sintomo di crescita moderata anche per i prossimi anni. A rendere poi ancora più instabile il clima è la politica protezionistica ventilata dal governo statunitense, che con molta probabilità darà vita a nuove turbolenze commerciali, incidendo sui fattori positivi di crescita economica mondiale. Il nord barese negli ultimi 18 mesi ha mostrato segnali prima di rallentamento, poi di flessione, con un export in contrazione che non va oltre 282 milioni di euro, dato in contrazione rispetto al primo semestre 2018. A trainare le esportazioni è il settore manifatturiero. Il 38% dell'export provinciale proviene dal comparto calzaturiero, seguito dai comparti dell'abbigliamento e del tessile, che pesano più del 20%. Nel complesso il 64% dell'export provinciale proviene dal sistema moda. A Naspa è il settore agroalimentare, in calo rispetto all'anno scorso, si è fermato solo a una quota del 15%. Nel primo semestre del 2019 i comparti che hanno registrato la maggiore crescita relativa sono stati quello dei macchinari, con un più 15,8%, e quello della chimica, con un più 10,3%. Le imprese del nord barese spostano i loro radar in termini commerciali verso i mercati di Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Fra i paesi ex europei, l'Albania e il Medio Oriente continuano ad essere i principali mercati di riferimento, seguiti da Stati Uniti, Svizzera e Russia. Grazie. Grazie.